Siamo con Luigi Boussa, un medallista bronze qui nella Karate Championship Europea. Come senti? Sono stati con il gioco di Eurovisione. Sono veramente felice perché a volte non mi rendo conto della mia capacità e della mia forza. Però oggi, non essendo libero mentalmente, sono riuscito a fare questo grandissimo risultato, perdendo uno dei più grandi di tutti i tempi come Akev, di misura. Quindi sono classificato al terzo posto, e sono molto felice. Nel tatami, come ti senti? Quali sono le vostre sensazioni durante il fight? Quali persona vuoi dedicare la medal? Due giorni fa gli volevo fare il ragaro più grande che loro, ma penso che siamo felici, lui è felice che gli ho fatto questo regalo. Lui era felice anche se non gli faceva questo regalo, perché lui è felice di mettermi combattere, però siamo molto più felici che abbiamo raggiunto insieme questo risultato, perché insieme facciamo questi sacrifici. Poi la dedico alla mia mamma, che gli do un bacio grande grande, e alla mia famiglia, alle mie sorelle che sono a casa sempre a tifare e guardarmi. E se mi permetti, volevo dedicarli a questo staff che comunque sa stare dietro a grandi campioni come me e anche altri atleti. E il mio pensiero, quando io sono felice e faccio raggiungere il risultato, va anche ai miei amici che fanno gli stessi sacrifici, tanto quanto me. E magari, perché lo sport è situazionale, lo sappiamo, si vince e si perde, e oggi non sono riuscito a gioire e sono col rammarico dentro. E il mio pensiero comunque va a loro, perché ci sa che sono gare e le sconvitte devono dare solo la forza di andare avanti e di continuare a lottare per questi grandi obiettivi che noi sportivi ci fanno vivere e ci fanno gioire. Ok, congratulazioni, signor Giormedal, grazie. Grazie, viciutazza Ulisi, la decima sempre per voi. A presto.